Iscrizioni ancora aperte sul portale endu.net oppure sul posto al Lido di Gavirate sabato pomeriggio e domenica mattina prima della partenza. Dopodiché a farla da padrone sarà il giro intorno al lago del 6 marzo, non solo per ragioni sportive ma anche aggregative, culturali, paesaggistiche ed ecologiche. In cabina regia ci sono Africa e Sport e Gandhi Whirlpool col convinto sostegno della Varese Sport Commission. La grande novità quest'anno è che per la prima volta facciamo questa gara non più sulla strada provinciale ma lungo la pista ciclopedonale del lago. Un modo quindi per valorizzare questa bellissima pista, un modo anche per allungare di qualche chilometro visto che era una richiesta che ci veniva dai runners. Tant'è vero che abbiamo chiamato questa manifestazione il lungo intorno al lago proprio per significare la possibilità di fare un bel allenamento in vista delle maratoni primaverili. E poi la grossa novità è quella del plugging, questa attività che si può svolgere mentre si cammina e si corre di raccogliere i rifiuti. Quindi un esercizio di educazione fisica e di educazione civica per migliorare e tutelare il territorio nel quale ci troviamo, nel quale corriamo e che ci piace tenere in modo pulito, in modo sano, un ambiente dove la gente abbia voglia di stare insieme, di socializzare, di correre e di fare attività sportive.